La nostra visione avvicina le persone, milioni di persone in tutta Europa con i programmi che vogliono vedere. Astra vi dà il potere per guardare quello che volete quando volete. I principali eventi sportivi. I film più recenti. Ogni genere di musica. E cultura. Il migliore intrattenimento familiare. Con programmi fatti apposta per voi. E moltissimi per i bambini. Potete persino fare acquisti da casa. E ricevere le notizie e gli eventi da tutto il mondo nel vostro salotto. Nuovi servizi interattivi portano la tv nell'era informatica. E la rendono facile da usare. Qualsiasi cosa guardiate. Su qualunque canale vi sintonizzate. Chiunque voi siate. È tutto su Astra. Televisione, radio e nuovi servizi multimediali. Su Astra. Il leader europeo dei satelliti.